Buongiorno a tutti, siamo qui con Giuseppe Acconcia, autore del libro Il Grande Iran. Giuseppe Acconcia è un giornalista, uno studioso, un ricercatore, esperto della realtà iraniana. Siamo qui con lui appunto per parlare di questa realtà oggi, dopo la rielezione di Rouhani, in un momento in cui il Medio Oriente è al centro delle tensioni internazionali e anche dell'interesse. Pongo subito una domanda, qual è il quadro politico che si configura dopo la rivoluzione islamica del 1979 in Iran? Cioè qual è lo spettro delle posizioni politiche in Iran e come è riuscita a vincere in una rivoluzione contro lo Shah, che era stata una rivoluzione in cui anche la sinistra iraniana aveva avuto un ruolo, sconfiggendo il governo oligarchico filo occidentale dello Shah. Com'è riuscito Comeini a costruire il proprio potere? Qual è stato il quadro politico che si è costruito nel corso degli anni e che c'è anche oggi nella Repubblica Islamica? Allora, nel 1979 c'è stata forse l'unica rivoluzione che ha conosciuto il Medio Oriente di recente, perché intanto tutti noi abbiamo sentito parlare delle primavere arabe del 2011, delle rivolte che hanno attraversato questi paesi. Ecco, nessuna di queste rivolte, forse tranne il caso tunisino su cui bisognerebbe discutere, si è trasformata in una vera rivoluzione. L'unica vera rivoluzione è stata la rivoluzione iraniana del 1979. Questa rivoluzione aveva tante anime. Una forte era di sinistra, perché anche i partiti comunisti, per esempio il partito Tudè, che è il partito comunista iraniano, il partito comunista kurdo e i partiti nazionalisti, socialisti di sinistra, ma anche partiti liberali, sono stati tra, per esempio, ricordiamo i Fedayin, i Mojahedin, sono stati tra i protagonisti delle rivolte. I Mojahedin e Kalk, quelli che poi diventano Mojahedin del popolo, giusto? Sono due diversi Mojahedin, ci sono i Mojahedin e i Kalk, ci sono i Mojahedin e i Ngelab. I Mojahedin e Ngelab islamini sono ancora parte, in qualche maniera. Però io parlo proprio dei Mojahedin che sono un gruppo di sinistra a quel tempo. e sono stati tra i protagonisti perché erano rivolte che partivano dal basso e su questo hanno tanti elementi in comune con i movimenti, le rivolte del 2011. C'erano tante donne, tanti giovani, tanti migranti, tanti operai che hanno occupato il centro della città di Teheran e delle grandi città iraniane. Purtroppo però questo movimento è stato monopolizzato da Ayatollah e in particolare da Khomeini che a un certo punto è tornato da Parigi, da questo villaggio alla periferia di Parigi, Neffle Chateau, dove lui viveva, ed ha guidato le rivolte. Anche questa però è una cosa abbastanza particolare perché nel 2011 non solo abbiamo avuto delle rivolte non una rivoluzione, ma queste rivolte non hanno mai trovato un leader. Invece la rivoluzione iraniana ha trovato il suo leader nell'imam Khomeini. Può sembrare una cosa limitante. E forse la domanda che dovremmo porci è se ogni rivoluzione che nasce in Medio Oriente può avere o potrà avere in futuro come prodotto una repubblica islamica. Se facciamo un confronto tra l'Iran e l'Egitto, per esempio, noi sappiamo che nel 2011 forse la rivolta più grande c'è stata in Egitto, hanno vinto alle elezioni i fratelli musulmani, anche in quel caso un partito islamista. Secondo me è molto interessante questo parallelo perché i fratelli musulmani hanno compiuto molti errori. E infatti sappiamo la misera fine che hanno fatto perché poi il 3 luglio del 2013 c'è stato un colpo di Stato. A me ha colpito molto il tuo libro il fatto che tu attribuivi il fallimento dei fratelli musulmani al fatto di essersi alienati a una base sociale, operaia, popolare, a differenza di quanto ha fatto Khomeini. Quindi ti chiederei anche come ha fatto Khomeini a far fuori in breve quella che poteva essere la base sociale della sinistra iraniana. Come ha fatto a scippargli la base sociale? Qui ci sono vari elementi. Un elemento è la guerra Iran-Iraq che sappiamo che ha diraniato il paese tra il 1980 e il 1988. Questo è stato lo strumento nelle mani di Khomeini per reprimere qualsiasi movimento, qualsiasi gruppo che fosse in opposizione alla sua strategia politica. Per esempio in quella fase sono stati esclusi dal Parlamento i comunisti, il Partito Tudè, i Fedain, i Mogiaidin, tutti i vari gruppi che abbiamo nominato prima che sono stati tre protagonisti della rivoluzione del 79. Però ci sono, da un punto di vista di politica interna, delle grandi trovate di Khomeini. Una è sicuramente stata quella di costruire questo meccanismo di sostegno al regime che sono le cosiddette fondazioni, cioè sono delle vere e proprie aziende o multinazionali che gestiscono i grandi introiti che vengono dalla vendita del petrolio. Sappiamo che l'Iran è un grande produttore di petrolio, un grande produttore di gas e attraverso i meccanismi delle fondazioni e i leader politici che sono allo stesso tempo politici e businessmen perché sono legati alle fondazioni Khomeini è riuscito a ridistribuire ampie parti delle grandi, dei miliardi che arrivavano all'Iran dalla vendita del petrolio. Questo è stato possibile attraverso un meccanismo che noi diremmo assistenziale, per cui è arrivato a milioni di persone queste forme sotto forma di sussidi. Per esempio mi vengono in mente i familiari dei martiri della guerra iran-Iraq. Ci sono milioni di famiglie iraniane che ancora adesso vivono sul sussidio che viene da una fondazione perché hanno perso un familiare durante la guerra. Oppure costruendo un sistema paramilitare. Non ci sono soltanto i Basdalan che conosciamo bene per il loro radicalismo. Ci sono tanti gruppi paramilitari, i Basigy, di Ansara e Sbolla che sono circa 10 milioni della popolazione, una grande parte della popolazione che sono persone qualsiasi che camminano per strada in borghese e fanno rispettare le regole della Repubblica Islamica. Quindi c'è questo tipo di approccio che noi chiameremo assistenziale che però se lo confrontiamo con i fratelli musulmani egiziani che non hanno neppure fatto questo, anzi in quell'anno che sono anno e mezzo che sono stati al potere, se mai ci sono stati perché c'è sempre stata una presenza fortissima dell'esercito, non hanno fatto altro che guardare le loro elite politiche, elite economiche, quindi ai businessmen che si rifanno la finanza islamica e non hanno mai ascoltato la loro base sociale, nonostante siano un gruppo che per 80 anni non ha fatto altro che dare scuole, che dare istruzione, che dare salute attraverso gli ospedali e le opere caritatevoli. E hanno mancato in questo, mentre gli Ayatollah in Iran sono stati capaci di ascoltare in qualche modo la loro base sociale, anche se noi diremmo, certamente senza ridistribuire la ricchezza perché ci sono ancora delle grandi disuguaglianze sociali in Iran, però ascoltando una parte della base del sostegno al regime. Certo, poi in Iran si sono effettivamente padroniti del petrolio, gli Ayatollah, mentre i fratelli musulmani non hanno fatto nulla che andasse realmente contro i dogmi del liberismo. Ecco, ti pongo invece un'altra domanda. Oggi, rielezione di Rouhani. Appunto, in occidente si chiama Rouhani riformista, ma non è così. Riformisti sono un'altra cosa. Cosa ci dobbiamo aspettare da Rouhani all'interno e cosa ci dobbiamo aspettare da lui all'esterno? Cioè, qual è il quadro politico interno in cui lui si muove e qual è il quadro politico esterno con cui deve fare i conti? Cosa può fare, secondo te? La rielezione di Rouhani è una rielezione nel segno della continuità. Lui era già stato presidente per quattro anni, è stato confermato come presidente, quindi in qualche modo i moderati si confermano come al potere nella presidenza della Repubblica, che ricordiamo ha dei poteri marginali rispetto alla guida suprema, che in questo caso è Ali Khamenei, ancora sempre per richiamare le strutture della Repubblica Islamica e all'impronta che ha dato Khamenei, lui ha introdotto questo meccanismo della velaiata e fa chi? Cioè, c'è solo un giure consulto, un esperto di diritto che in un momento storico può essere la guida suprema. Fino al 1989 è stato lui e adesso è Ali Khamenei. E anche questo forzando un po' i meccanismi decisionali sciiti, che normalmente sono più paritari nella loro gerarchia religiosa. Allora, avendo fatto questo, la guida suprema è quella che veramente decide e il presidente della Repubblica è un po' soggetto alle decisioni, un po' dipende dalle decisioni della guida suprema. La rielezione di Rouhani è una rielezione in continuità, sempre i presidenti iraniani sono stati rieletti per il secondo mandato, non c'è un presidente tranne proprio agli inizi della Repubblica Islamica che non si è stato riconfermato. C'è stata una grande partecipazione al voto, oltre il 70% degli iraniani sono andati a votare. Era il primo voto senza uno degli uomini politici centrali, che era Hashemir Afsanjani, che era quest'uomo vicino ai tecnocrati, il padre politico di Rouhani che è mancato lo scorso gennaio e poi potrebbe essere l'ultima elezione con Khamenei come guida suprema, perché anche lui è molto in là con gli anni. Quindi è stato un momento molto importante per la Repubblica Islamica e quindi in politica interna si prevede, si va verso la continuità, anche perché Rouhani ha ottenuto dei successi abbassando per esempio un'inflazione molto meno rilevante, una crescita del PIL del 7% anno e poi il grande successo dell'accordo sul nucleare. Però rispetto ai riformisti che tu citavi ha fatto un po' di meno, non è riuscito ad entrare per esempio nei centri dove i riformisti tradizionalmente sono potenti, nelle università, nella televisione di Stato per esempio, oppure si è tenuto su riforme un po' più neoliberiste rispetto ai riformisti che hanno sempre avuto un occhio più verso la sinistra, verso il sociale, o per il dialogo tra civiltà eccetera. Però da un punto di vista di politica estera veramente hanno saputo fare tanto, perché l'accordo sul nucleare non era per niente scontato ed è stato raggiunto nel luglio del 2015, ha portato veramente a riconoscere l'Iran come un paese rilevante nella regione. L'Iran, il grande Iran appunto viene da questo, è un paese centrale per risolvere i conflitti regionali dalla Siria all'Afghanistan all'Iraq e resta un paese importantissimo per questo motivo, ancora di più adesso con Trump, perché Trump sta mettendo in discussione l'accordo sul nucleare. Addirittura ha fatto questa visita in Arabia Saudita dove ha stretto le mani del re della monarchia locale dando miliardi di dollari alla monarchia saudita che poi è quella che più viene accusata di finanziare il terrorismo internazionale anche di ISIS e invece critica l'Iran come sponsor del terrorismo mentre parallelamente in Iran si svolgevano elezioni con una grande partecipazione. Quindi evidentemente è un grande paradosso della politica essere degli Stati Uniti che instilla un sentimento di anti-americanismo in Iran e che è figlio di una iranofobia che in ambienti repubblicani negli Stati Uniti è molto forte, tanto che l'Iran è sempre stigmatizzato come uno dei sostenitori del terrorismo, invece l'Iran insieme ai kurdi è l'unico paese che sta fermando l'avanzata di ISIS e se questo discorso dovesse andare avanti, tanto da mettere in discussione l'accordo sul nucleare, anche se non sembra perché anche le liti finanziarie degli Stati Uniti vogliono andare avanti con l'accordo sul nucleare, questo non fa altro che rendere l'Iran più grande perché sarà sempre più importante avere un argine contro i gruppi armati che si ispirano a ISIS eccetera l'Iran è il primo in questo. Grazie mille, grazie mille direi che...